Salve a tutti ragazzi e bentornati su uno dei video più belli di questo di questo mese secondo me Cioè i sette giochi portatili per smartphone del mese di... di Osmo E allora ci dobbiamo prima di tutto congratulare con voi per tutti i commenti bellissimi che ci avete mandato per gli scorsi episodi Quindi grazie, continuate così, mi raccomando con i mi piace perché questo è uno dei format che piace di più Quindi siamo contenti di portarlo avanti Anche perché molti dei giochi sono gratuiti, in realtà sono tutti gratuiti ma alcuni di questi, se non pagati, possono rappresentare dei problemi Eh, perché magari non puoi sbloccare certe cose, insomma a volte ti trovi a pagare ma almeno lo provi Sto facendo così per dire, anzi, mi è venuta un'idea giusto appunto adesso Se ci volete consigliare anche dei giochi a pagamento, fate la vostra top 3 di giochi a pagamento Eh, che vorreste vedere in questa rubrica? Magari facciamo una versione speciale dei giochi a pagamento Quattro visualizzazioni E facciamo una versione speciale per le app che abbiamo già fatte in passato Però non ci sono troppe app, cioè ci sono delle app che noi lavorativamente utilizziamo Ma magari voi ne conoscete altre Sì, appena possiamo lo facciamo Oh, mo' partiamo subito con Cosmic Dots E siccome l'ho detto io il titolo, lui deve continuare Cosmic Dots vuol dire testualmente puntini cosmici Che cosa si fa in questo gioco? Tu sei Frank, un'astronauta in pensione Hai 68 anni, sei appena andato in pensione perché sei italiano come astronauta Giusto? Quella è l'età a me Comunque sia, ti ritrovi nello spazio circondato da puntini La prima cosa che ti viene in mente di fare è toglierti il casco per mangiarne uno Quindi rimani congelato e muori sul colpo E finisce il gioco, un gioco narrativo Cosmic Dots è un puzzle game con i puntini E lo state vedendo, quindi non è che vi devo dire più di tanto E' carino, se no non ci stava in questa rubrica Scaricatelo se lo volete scaricare, se no Ma non me lo ricordo Andiamo avanti, andiamo avanti perché non ci si può ricordare sempre tutto Abbiamo Io leggo così come è scritto Il pinball che ride E' un pinball allegrissimo Cioè tu muovi la pallina Pimball ride è un pinball Sarà che in questo periodo mi piacciono molto i flipper Stanno tornando di moda E quale miglior modo per giocare a flipper se non col cellulare Dato che lo schermo è molto allungato E quindi sempre più bello Si presta Che cosa dire di questo flipper? E' un flipper fatto particolarmente bene Ma ce ne sono 100 miliardi di flipper là fuori Ecco questo secondo noi è uno di quelli fatti meglio E poi soltanto a pensare a flipper mi torna in mente Jessica Alba E' immediato Proprio Io pensavo il delfino invece No, nella serie di flipper c'era Jessica Alba Da ragazzina Ma i delfini si masturbano E' probabile E' probabile Cioè nella parte sbloccabile con i soldi Perché c'è sempre quella parte lì Si rimuovono gli azze C'è la leaderboard Sbloccate i soldi Crediti infiniti Eccetera Ma potete giocarci anche così E' molto molto divertente Dategli un occhio E adesso un altro gioco Annuncialo tu Adesso un altro gioco Beat Stomper Basta Cosa si fa in questo gioco? Praticamente tu stai sulle piattaforme E devi saltare su un'altra piattaforma E devi fare tap, salti Tap, riabbassa sulla piattaforma E basta E' molto semplice però La grafica è sflesciosa Molto molto sflesciosa La colonna sonora l'ho apprezzata tantissimo Non è così facile come sembra Man mano che andate avanti Le piattaforme diventano piccole Lo state vedendo comunque Molto molto bello Quando vi parliamo di giochi semplici Stiamo sempre attenti che siano giochi semplici ma interessanti e quanto meno originali E questo è il caso di Ball Slide Tecnicamente mi esce una palla Questa è la traduzione Mi esce una palla Praticamente il protagonista di questo video game ha appena acquistato un costume, un boxer da spiaggia dai cinesi La retina interna di questo boxer non è elastica quanto basta E il coglione destro Non possiamo mai fare una rubrica sui videogiochi e tu te ne esci con i costumi da bagno Cioè una volta Facciamo un modo professionale Sì sì Non mi parla di coglioni che escono C'è una palla nel gioco Eh E scivola giù per questa La devi caricare col tuo dito Puoi usare quel dito vuoi Puoi sapere il naso Senti porco, già cominci, metti il dito, prendi qua Vabbè, comunque avete sta palla colorata A seconda del colore dovete metterla Nella palla più grossa Come fate? Come se aveste un arco Tendete la linea immaginaria e poi sparate la palla Sembra facile ma dopo diventa talmente incasinato che lo butterete come ho fatto io E lo disinstallerete perché vi piglierà il male Non vedo l'ora di provarlo anch'io questo gioco Quando un missile gira, s'attacca e poi devi ritappare Sai subito che parli di Missile tap tap E invece space tap tap Space tap tap Vabbò è uguale perché c'è un missile in space Siamo nello spazio Ora Partiamo da quello che non mi piace di questo gioco È che ogni volta che rinizio ti dice Vuoi continuare? Tu metti di no Poi ti rimette da capo Una schermata iniziale Poi devi ripremere per partire E uno di questi giochi qua che poi Trial and error Trial and error quindi a un certo punto ti prenderà la fregola di riniziare in modo più veloce E tu devi aspettare quei tre secondi e mezzo che sono pochissimi se tu vai a calcolare il tempo Ma comunque ti mette e capito Beh pensate che se uno gioca a questo gioco per 48.000 ore Quei tre secondi si vanno a sommare Ma non ci arrivi a 48.000 ore e ti spacci le palle prima Che cosa bisogna fare in questo gioco? Allora questo lo dice il nome stesso praticamente Noi tappando riusciamo a muovere questo missile Che fa questo, ve lo faccio con le mani per farvi vedere, fa questa cosa qui La partita a un certo punto Però è brutto il fatto che per ricominciare No lui non l'ha visto Stavo a vedere l'altro gioco, io vi farei vedere come sta scritto Perché io non ho capito, è scritto in italiano ma io non ho capito Ma quello serve a me Perché poi io, comunque stavo parlando di Space Tap Tap Lo state vedendo, è molto semplice Praticamente tu ti attacchi gravitazionalmente a queste palle d'acciaio E poi rilasci quando hai il giro giusto e vai in alto E poi c'è, fai tanti metri e vinci Devi da fastidio a Superman per arrivare al tuo obiettivo E' l'uomo d'acciaio Che c'hai? Superman c'ha anche i coglioni di ferro Sapete tutti che a scuola durante le ore di algebra il vostro migliore amico è il coltello a serramale No, il calcolatore, la calcolatrice Cosa vi fa una calcolatrice? Cioè che ne so, non sapete quanto fa 12 diviso 3 Quanto fa? Credo 4 Non sapete quanto fa 18 per 120 Quanto fa? Eeeh, lui è alto come numero Comunque sia, la calcolatrice vi aiuta Ma se la vostra calcolatrice di colpo si rompesse E voi foste costretti a fare conti allucinanti Tipo, che ne so, 25 diviso 3,2 Ma come faresti? Calculator the game è un gioco che vi allena alla mente L'ho trovato molto simpatico perché la vostra calcolatrice in qualche modo vi parla, no? Vi fa le faccette simpatiche, vi dice, ah, vogliamo giocare insieme E ti dà un punteggio al quale devi arrivare e le mosse che puoi fare per arrivare a quel punteggio Una mossa la conosco, cioè tipo, Sinergo, 2 milioni diviso 4 Questa è la mossa che faccio io, assolutamente Che poi è mezzo milione, quindi Comunque, che cosa dovete fare? Vi escono delle cifre sopra questa calcolatrice virtuale E delle... Operazioni Operazioni, che può essere la divisione Sottrazione Dei togli calcoli Queste sono le... Vabbè, tutte quelle lì E che dovete fare? Quindi dovete arrivare al goal Che ne so, il goal è 100 Tu hai quattro mosse e sopra trovi 5, 4 e meno 25 Com'è a... Si installi immediatamente l'app Bruci il telefono, gli pianti dentro un paletto di frassino e cipisci solo Ok, e quindi è divertente, simpatica Dategli una possibilità perché è bellino Sì, sì, no, no Non mi vedete qua, ma io sto già scaricando questo gioco Parliamo di un altro gioco, eh Quando stiamo parlando di giochi si fa sempre di più E questo si fa di più E si ha un make more Fai di più Che cosa si fa in questo make more? È un gioco studiato non tanto per divertirvi Ma per farvi imparare la mentalità aziendale Voi siete il boss di un'azienda E sostanzialmente il vostro unico compito è quello di battere i pugni sulla scrivania Perché? Perché a tempo dovrete fare... Avete presente clicker cookie? Cookie clicker? Quella cosa là? È la stessa cosa, semplificata Voi premete a tempo, quindi producete robe Poi vi arrivano i potenziamenti Mettete il potenziamenti Producete più robe E continuate a cliccare a tempo Però qui non ci sono i potenziamenti Attenzione, qui con i soldi guadagnati dall'attività dei nostri schiavi Perché sono schiavi Possiamo assumere altri schiavi Che ne so, l'elfo di Babbo Natale Che è molto produttivo Le mucche che sono molto produttive E altri personaggi che non ho provato perché mi sono cagato il cazzo a un certo punto Però il gioco vi fa passare tranquillamente quei 10-20 minuti Che magari vi servono per tirar giù il solito capolavoro lungo l'asse del water O magari per aspettare il pullman È un gioco interessante che in qualche modo vi fa capire che fine farete voi giovani laureandi tra qualche anno Ma che povertà di cosoglieri Eh? No, non è vero, ma chi vi assume? Ecco Cioè, disoccupazione è quello che dobbiamo, tutti quanti dobbiamo disoccuparci No, non mi va di essere così fatalista però Ragazzi, il lavoro è là fuori, dovete solo andare e prenderlo Anzi, take it, take it perché prenderlo in italiano non funziona Fuori dall'Italia Gli ultimi ce li siamo presi noi ragazzi Non c'è più posto per voi che... Poi che ero youtuber Partite, subito Tanti migliaia di euro Non fate gli youtuber in Italia Imparate l'inglese Cioè non è che 10-50 euro che voglio buttare Sì sì, ce li avevo l'altro giorno poi ho comprato i croccantini del cane, sono rimasti diventi Però comunque ragazzi, andate fuori dall'Italia Senti, ma stiamo a fare una rubrica sui videogiochi, passiamo al prossimo gioco E lamentatevi che vi manca l'Italia Comunque, il prossimo gioco Il prossimo gioco è drop We love Ah, io leggo Io qui leggo Io leggo P Drop Wizards Ci sei arrivato pure tu, eh? Allora, ultimo gioco bonus Perché Make more Non è che ci piaceva poi troppo, visto che poi si va a parlasebbe degli universitari No, beh, insegna una cosa brutta sostanzialmente Cercate di godervela la vita e di fare una cosa che vi piace Però non lo so se in Italia viene bene Facciamo Drop Wizards Vi ricordate? Bubble Bobble Bubble Bubble Bobble Bubble Bobble È un gioco con il quale siamo cresciuti e poi vi domandate perché siamo casualoni Semplice perché con Bubble Bobble Si potevano passare ore in allegria A bestemmiare contro il compagno che non riuscì O buble Bobble come lo chiamavamo qui No, no, buble Bobble Lo chiamavamo Comunque sia, che dovete fare? Siete stomaco, molto semplificato Stomaco che quando va a destra e sinistra Ma state vedendo No, va a destra e sinistra E quando tocca a terra Spara un raggio nella direzione in cui state andando Si, si E basta Poi dovete distruggere i cazzarilli E poi quando passate il livello c'è un level up Un level up E prendete i potenziali È tutto chiarissimo Le immagini stanno parlando da sole E che cazzo ne mettiamo a fare le immagini se no? Giusto, la prossima volta facciamo il video muto Noi anzi parliamo dei cazzi nostri E intanto i giochi scorrono Giusto? Volete Un'edizione In cui parliamo dei cazzi nostri Ci sono i giochi dietro E poi andate a ricercare voi il titolo Mettete mi piace Oh, ci vediamo al prossimo Giochi da cesso ragazzi Buona cagata a tutti E vi vogliamo tanto tanto bene Andate via